Fabio so che mi risponderai che era meglio non segnare e vincere la partita, però stasera per te a livello personale era una serata particolare, le 100 presenze in campionato, un gol tra l'altro bellissimo al termine di un'azione corale d'applausi, cosa ti rimane di questo anche dopo un risultato di parità? No, il gol comunque fa sempre piacere, purtroppo il pareggio, però il gol fa piacere, l'azione è una delle tante che facciamo durante la partita, delle volte ci viene meglio, è venuta una bella azione, sono contento di aver fatto gol, sono contento di aver ricevuto la maglia celebrativa delle 100 presenze, Poi alla fine stringiamo e vediamo che abbiamo portato a casa solo un punto, per quello che abbiamo fatto nel primo tempo forse meritavamo di più nel primo tempo, nel secondo è vero abbiamo smesso un po' di palleggiare, abbiamo sofferto le loro palle lunghe e su questo dobbiamo migliorare perché comunque incontriamo sempre squadre che fisicamente sono un po' più forti di noi, però penso che oggi agonisticamente e caratterialmente abbiamo dato prova di grande compattezza di squadra e abbiamo dato il 100%. Quando il ministro ha cambiato modulo avete perso per qualche minuto un po' il palleggio, il fraseggio, anche le misure nel tenere il campo oppure non è di peso da quello? No, no, non è di peso dal modulo perché poi se andiamo a vedere anche prima del cambio modulo abbiamo sbagliato 4-5 palle in uscita che poi ti mettono lì e sei in sofferenza, mentre quando riesci a tenere la palla tua alla fine anche se loro attaccano comunque senti che ci sei, senti che puoi portarla a casa, quando sbagliamo il primo passaggio in uscita è sempre un correre indietro e questo ci penalizza. Una classifica indecifabile, per questo conta più arrivare bene ai play-off al di là della posizione finale? Innanzitutto speriamo di arrivare più in alto possibile, però sì, è vero, speriamo di arrivare anche bene mentalmente, perché poi alla fine fisicamente credo che stiamo dimostrando, a parte qualche partita, però penso di collettivamente sbagliata, non penso che poi tutte le partite abbiamo dato sempre tutto e fisicamente ci siamo, anche oggi contro una squadra tosta abbiamo fatto vedere che ci siamo. Per queste 100 la partita da ricordare? No, tutte, tutte, tutte belle, tutte. Il gol è da ricordare? Quello di stasera? Sì, anche quello di stasera, ci metto quello con l'entella, quello di stasera, tutti belli, anche il primo, quindi sono contento. Tutto cuore? Sì.